salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanellina per non perdervi altri tutorial simili a questi innanzitutto prima di cominciare vi dico solamente che per risolvere questo download lento su Valorant accertatevi che abbiate disabilitato tutte le applicazioni che si avviano quando accendete il pc ci ho fatto anche un tutorial su come disabilitarle però adesso vi spiego come fare per esempio avvio e qui fate disabilita disabilita abbi le cose così e riavviate il pc ok questo era un piccolo passaggio che per risolvere questo download lento per esempio come potete vedere a me qua sta andando a 0,1 kilobyte al secondo quindi devo per forza risolvere questo errore quindi cosa fare cosa fare come potete vedere in basso a destra mi è uscita una notifica di steam di un certo amico che ha aperto un gioco quindi ho anche parecchie applicazioni aperte quindi esco da steam da origin da discord da riot no stop loop midi freedom load manager non ci serve eccolo qua ok poi andiamo su dettagli dettagli scendiamo fino a giù fino a trovare riot client service questo qua in esecuzione imposta priorità mettiamo alta ok lo stesso anche per lui lo stesso vale anche per lui è per l'ultimo riot eccolo qua e ora non ci basta che andare a vedere il download ok vabbè a me sta andando a 10 megabyte al secondo perché è la mia connessione però da 0.1 a 10 megabyte al secondo è un bel passo quindi poi dipende anche dalla vostra connessione ragazzi quindi io spero tanto che questo video è stato utilissimo bastava solamente disabilitare tutti i programmi che si avviano quando accendete il pc chiudere tutte le applicazioni ad esempio steam origin molti launcher molti programmi e quindi grazie a tutti per questa versione ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao